Questa è un'interessante cosa Ah si che pillo! Stanno bene? Si che pillo Ah! Pince, maldito! Si che pillo! Si che pillo! No, pero ahi si, ahi sale, ahi tiene que salir Oh! Che cambiaste! Ya! Yo tengo 15 Menos 3 Volverás al 6? No! Son 12 Lo checaste con 4 Y donde Fernando no esta? Oh! No! Más 7 Que tal vaya que no le quiere pegar al 3 Y va a ir al sea Ejale Suavezón Non Si No 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 Non No 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 Grazie.